un tema scottantissimo un tema veramente scottante cosa fare per attrarre il partner giusto vi dico subito che anche se mi scrivete in tantissimi chiedendomi questioni d'amore non sono il dottor stranamore ma proprio perché le richieste sono veramente tante faccio questo video proprio per rispondervi allora che cosa fare per attrarre il partner giusto te lo stai chiedendo anche tu dici ma la risposta a tutte le mie domande sì ce l'ho ed è molto più facile di quello che tu ti immagini allora la prima cosa da fare è lavorare su tutte quelle tue ferite su tutte le tue ferite che sono ancora attive sui tuoi bisogni soddisfatti su tutti quei punti di dolore che si attivano e che ti rendono fragile soprattutto succube del giudizio degli altri che ti rendono insicuro che ti fanno pensare che a qualsiasi costo debba tu piacere alle persone che incontrerai vai a lavorare su tutto ciò che ti impedisce di sentirti bene di essere naturale anche quando ti rapporti con le altre persone che siano del tuo stesso sesso dell'altro sesso non importa qualsiasi tipo di persona quindi nel momento in cui tu vai a lavorare su queste ferite e ovviamente se magari mi segui da poco è la prima volta che mi vedi te lo dico ho scritto anche un libro che si chiama divine connection dove all'interno è contenuto un metodo veramente potentissimo che tu puoi utilizzare per andare a lavorare su tutti i tuoi punti di dolore su tutti i tuoi blocchi i limiti che hai creato nella tua vita quindi se non l'hai ancora letto leggilo e utilizza il metodo perché li hai spiegato veramente molto molto bene quindi utilizza questo metodo e inizia proprio a lavorare su tutti questi punti troverai anche la descrizione dei benefici secondari all'interno del gruppo che sono connessi proprio a quelle comodità a quelle sensazioni positive che tu provi nel non fare qualcosa di buono per te comunque leggi il libro che troverai tutto quello che ti serve quindi la prima cosa è andare a lavorare proprio su tutti i punti di dolore poi su tutte le credenze che hai su di te su non essere abbastanza bravo abbastanza meritevole non non essere abbastanza qualsiasi cosa bello bravo intelligente poi diciamo che a livello di credenze negative gli esseri umani sono talmente creativi che riescono ad inventarsene di ogni quindi non riuscirò a fare tutto tutto l'elenco delle credenze negative che puoi avere in merito a te stesso lavora anche su queste con la divine connection vai a scioglierle e vai a trovare anche delle conferme contrarie ossia nel momento in cui tu pensavi di non essere intelligente porta l'attenzione su tutti i pensieri ragionamenti le cose che fai bene e comincia a creare dentro di te proprio la credenza contraria nel momento in cui tu crei la credenza contraria sempre con la divine connection la usi per espanderla così la rendi ancora più forte oltre che ripeterla a te stesso quindi dici ah io pensavo di non essere abbastanza intelligente nel momento in cui tu fai qualcosa di buono non lo so io legge un libro e lo capisci completamente dici cavolo sì che sono intelligente guarda ho letto questo libro l'ho compreso sono molto intelligente e quindi questo ti aiuterà a creare delle lasciare andare prima di tutto le credenze negative creare delle credenze positive su di te e in più una cosa che è fondamentale che tu faccia è fare ciò che tu ami non pensare a dove tu puoi arrivare a trovare il partner perché i punti di incontro non saranno sicuramente quelli che porteranno la persona che potrebbe attirare il tuo interesse e non la troverai quasi sicuramente lì ok perché è difficile che tu possa incontrare l'uomo la donna della tua vita in un punto di ritrovo comune nel senso che non frequentare vai le discoteche se a te non ti interessa andare a ballare non andare a fare questi aperitivi fashion se non sono le cose che ti piacciono vai a non lo so a fare quello che ami vuoi andare ti ami andare in montagna vai in montagna ami andare a cavallo vai a cavallo ami andare che ne so io a vedere un film de se vai a vedere un film de se qualsiasi cosa ti piace ti faccia sentire bene perché perché intanto tu stai rispettando i tuoi gusti facendo le cose che ti piacciono non stai facendo le cose che ti piacciono al fine di andare a cacciare che questa cosa allontana la possibilità di incontrare qualcuno tantissimo se non totalmente e inoltre ti permette di godere il tempo della tua vita poi se dovessi incontrare qualcuno casualmente sempre casualmente deve avvenire questa cosa succederà che magari incontrerai anche qualcuno che ha dei gusti simili ai tuoi perché se tu sei una persona che ama leggere libri e andare a teatro e vai in discoteca incontri qualcuno che normalmente va in discoteca facilmente non avrete gli stessi gusti e non vi troverete bene ok quindi ama te stesso più di chiunque altro e questo non è un atto di egoismo ma è un atto sano perché se tu non ami te stesso non potrai incontrare qualcuno che ti apprezzi perché ricordati che il mondo attorno a te non è altro che il tuo specchio è chiaro quindi mi raccomando non andare a caccia goditi la tua vita perché tu meriti di vivere una vita bella piena meravigliosa meriti di amare te stesso e te stessa e meriti di incontrare non chi che sia perché hai paura di rimanere solo ma proprio perché ami te stesso e ami la tua vita di incontrare una persona con cui avere un rapporto di valore un rapporto di scambio un rapporto di complicità un rapporto che valga la pena di essere vissuto e un'altra cosa che è importante che tu sappia è che se tu vivi la tua vita cacciando volendo inseguendo la legge che fa parte dell'universo e che ci fa da specchio ti continuerà a inviare immagini e situazioni dove tu continuerai a inseguire e non raggiungerai nessuno mentre nel momento in cui tu ami te stesso aprirai delle porte delle porte magiche e ti porteranno nel momento in cui sarà il momento giusto in cui sarai pronto in cui avrai imparato che tu hai un grande valore e puoi star bene veramente da solo si apriranno delle porte che magari ti potranno portare a incontrare qualcuno con cui verrà la pena di condividere il tempo e la vita un abbraccio di luce e al prossimo video ciao se il video ti è piaciuto lasciami un like e vai sul canale youtube patrizia sette educati e iscriviti